buongiorno cari amici santa giornata a voi tutti ecco mi auguro come sempre che possiate stare tutti bene in questo martedì della terza settimana di quaresima ecco ci avviciniamo sempre di più a questo momento cardine di tutta la liturgia di tutto l'anno liturgico di santa madre chiesa momento che ci vede ecco destinati evidentemente a una metabolè a un cambiamento della nostra vita è come la pensiamo è come la viviamo ecco è chiaro che le prove aumentano le tentazioni più ci avviciniamo alla quaresima più si fanno presenti più si fanno sentire però ecco con il coraggio che ci viene trasmesso attraverso la fede e attraverso la figura gloriosa dei santi andiamo avanti in questo percorso che ci è stato già tracciato noi dobbiamo soltanto soltanto non è un diminutivo seguire le orme di gesù cristo seguendo dunque le virtù mariane le virtù della santa vergine maria ecco oggi il titolo di questa diretta diretta mattutina assai mattutina e sarà appunto una diretta sintetica ma che vuole toccare un argomento assai esigente assai attuale che merita proprio ecco di essere inquadrato e anche risolto per quel che ci compete e per quella che è appunto la nostra possibilità la nostra facoltà rispetto al tema stesso ecco il tema è il tema è il titolo del tema è falsa politica e politica autentica siamo stanchi di dover sopportare di dover di dover tollerare delle forme pseudo politiche delle forme di gestione della resse pubblica che tutto sono altro che fuori di una manifestazione evidente e sincera e onesta della gestione della cosa pubblica ecco ormai da troppi anni ormai da troppi anni siamo costretti siamo vessati in una condizione che non ci rispecchia nella quale non vediamo appunto poter interiorizzare ecco quelle che sono le nostre idee i nostri ideali le nostre esigenze dunque di che cosa stiamo parlando cosa di cosa appunto parlano i nostri politici cosa ci trasmettono possiamo dire che quello attuale ecco le sovrastrutture attuali siano delle forme autentiche di politica chi è a roma chi è a brussel o in tutti quei distretti deputati evidentemente all'amministrazione della cosa pubblica la gestione della cosa pubblica possono essere definiti come autenticamente politici abbiamo davvero una classe politica che si impegna esclusivamente nel ricercare il bene dunque della polis della città e del polites del cittadino perché politica per chi ha studiato significa appunto questo il politico è colui il quale in modo consapevole e volitivo mette in atto delle condotte dei comportamenti degli atteggiamenti unicamente unicamente scusate volti ecco destinati alla risoluzione di problemati di problematiche pubbliche dunque alla realizzazione di un bene comune sempre più evidente sempre più tangibile e sempre maggiore questo è il politico il politico deve necessariamente preoccuparsi di due aspetti di due fattori uno il primo è la polis quindi la città lo stato la nazione in senso lato il secondo è di ordine appunto più personale più intimo dunque riguarda il polites il cittadino quindi il politico se si occupa della polis e del polites è un vero politico cioè è politico altrimenti è un giullare e un pagliaccio è uno che crede presuntivamente di fare qualcosa per la polis e per il polites ma in realtà distrugge ecco l'ontologia è della polis e del polites e dunque come sempre come sempre perché c'è una verità fattuale dietro questa espressione la nostra unica garanzia per essere anche dei buoni politici o perché così abbiano dei buoni politici è nostro signore gesù cristo la politica chiede che sia centrata sul vangelo di nostro signore gesù cristo noi abbiamo bisogno a noi occorre una politica teocentrica teologica cristologica non ci importa nulla di una politica atea di una politica assoluta quindi sciolta da vincoli sacri vogliamo una politica cristiana una politica cattolica che sia fondata sui principi normativi del vangelo di gesù cristo non vogliamo una politica egocentrica dove l'ego è dell'antropos quindi non vogliamo una politica antropocentrica antropologica noi necessitiamo tutti quanti di una dimensione aperta quindi estrinseca sul piano pratico procedurale dunque la politica questa macro categoria che sia centrata imperniata giustificata dalle categorie salvifiche ed autentiche del vangelo di nostro signore gesù cristo solo quella è la vera politica solo quella è la vera unica forma con cui salvaguardare l'interesse privato del singolo e comune della collettività nella politica vera c'è la coinonia quindi la dimensione ecclesiale ecco noi vogliamo una politica ecclesiale l'ecclesia cioè dell'assemblea favore dell'assemblea dunque tutto ciò che sta mettendo in atto l'europa tutto ciò che stanno mettendo in atto i vari governi nazionali guidati guidati e sotto scacco della massoneria non è politica è una forma degenerata è una forma degenerata di qualcos'altro è una forma di dittatura è una vera e propria dittatura è una forma di oclocrazia è una forma di oclocrazia oligarchica con cui soggiogare le menti e le anime le coscienze dei singoli individui ecco chi ha studiato chi conosce polibio con la sua teoria dell'anaciclosi in italiano in greco anaciclosis sa benissimo che le forme di governo si succedano attraverso un procedimento meccanicistico temporale ben definito per cui ecco ad ogni periodo storico fa seguito necessariamente meccanicamente una degenerazione di una forma politica che di per sé stessa dovrebbe essere positiva buona e quindi alla forma democratica polibio appunto nella sua teoria dell'anaciclosi dell'anaciclosis fa corrispondere la forma degenerata della oclocrazia che cos'è la oclocrazia il potere delle masse il potere delle masse quindi abbiamo una una forza politica abbiamo un motore politico un motore trainante politico che non è più democratico non è più monarchico non è più aristocratico ma si palesa attraverso queste tre rispettive forme di generazione rispetto a queste appena elencate per cui la democrazia segue come forma degradata come forma minore quindi sminuita la oclocrazia e quando siamo massa invece quando siamo popolo cosciente consapevole quando rispettiamo i rimandi tradizionali che dunque ci contraddistinguono rispetto all'altro noi per essere popolo italiano necessitiamo di tutti quegli aspetti fenomenologici che appunto dicono di noi essere italiani dunque una lingua una letteratura una filosofia un contributo scientifico la grammatica e anche e soprattutto la religione la fede la confessione un popolo può dirsi effettivamente popolo e quindi può dirsi ci può essere per questo popolo in questo popolo una vera politica se questo popolo conserva necessariamente anche il dato di fede di religione noi siamo italiani perché abbiamo una lingua l'italiano perché abbiamo una grammatica una sintassi abbiamo una letteratura abbiamo una storia abbiamo una filosofia ma abbiamo anche il dato esperienziale di fede legato circoscritto a quanto dettoci da cristo da dio se togliamo uno soltanto di questi elementi ad esempio come la massoneria i satanisti pretendono ovvero il dato di fede non possiamo più essere intesi e non possiamo intenderci come popolo italiano perché ci hanno smembrato ci hanno svuotato ci hanno tolto ci hanno privato di uno dei tanti dati che nella loro commissione reciproca giustifica ciò che effettivamente siamo allora la politica per essere vera politica necessita che sia appunto una politica dunque aperta al po alla polis e al polites alla città e al cittadino centrata sul santo vangelo di nostro signore gius cristo tutti i costori quali tutti coloro i quali si professano essere politici ma dicono di essere atei contro cristo contro le virtù della santa vergine maria sono dei pagliacci non sono da prendere in considerazione anzi sono da allontanare sono da condannare da colpire da denigrare da mettere all'angolo da destituire da ogni forma istituzionale che prevede appunto che questi abbiano in mano le sorti del pianeta e dunque ecco nel caso particolare le sorti del singolo cittadino noi vogliamo una politica che sia apertamente contro all'aborto apertamente contro l'eutanasia apertamente contro alla teoria di genere quindi contro l'omosessualismo contro la teoria appunto la teoria gender contro il transessualismo contro la poligamia contro tutto ciò che è contro e contrario al vangelo appunto di nostro signore gesù cristo noi vogliamo una politica che segua le virtù della santa vergine vogliamo una politica che sappia riconoscere l'errore e la verità la menzogna e l'autenticità il peccato della grazia della salvezza non abbiamo bisogno e non vogliamo detestiamo la promiscuità la superficialità la commissione di due dati ontologicamente antitetici dunque non vogliamo quel procedere ghiliano che vorrebbe sommare nella sintesi un processo veritiero la tesi è contestualmente un processo menzognero travagliato inesistente l'antitesi noi siamo per l'unica vera verità l'unica vera verità l'unica vera certezza che è gesù cristo gesù cristo che ci arriva appunto arriva a noi attraverso maria la santa vergine maria vogliamo politici vogliamo politici che vadano a messa tutte le sante domeniche o anche tutti i santi giorni vogliamo dei politici che abbiano in mano la corona del santo rosario vogliamo dei politici che si comunichino tutte le domeniche che si confessino tutte le domeniche che partecipino attivamente coscienziosamente ricevendoli i sacri sacramenti vogliamo dei politici vogliamo una classe dirigente una classe politica che abbia il coraggio l'audacia di dire all'europa e al mondo intero che cristo salva se facciamo così se dunque la classe politica si adegua con fede con fiducia ai rimandi didascalici del vangelo di nostro signore gius cristo soltanto allora ecco le società potranno dirsi effettivamente pacifiche effettivamente bonarie effettivamente inclini ecco alla risoluzione dei vari problemi dei cittadini e della cosa pubblica non abbiamo bisogno di non vogliamo la rigettiamo la ripugniamo una politica prostituta una politica di prostituti non vogliamo compromessi non vogliamo compromessi dunque non vogliamo che si possano partorire delle norme delle leggi degli atti normativi contrari al vangelo di nostro signore gesù cristo non vogliamo compromessi col demonio con satana noi vogliamo una città una società cristificata cristocentrica cristologica cristodipendente e quindi tutti questi politici pseudopolitici falsi politici apolitici che sono la negazione nei termini stessi del concetto assai nobile di politica perché la politica se autentica è un concetto pensato ecco dal dalla mente di dio questi politici falsi pseudopolitici devono essere innanzitutto riconosciuti identificati e cacciati dalle istituzioni dalle aule di governo da quei da quei luoghi da cui poi dipende ecco da cui dipende dipendono le sorti dei cittadini delle nazioni degli stati cristo deve deve guidare la politica e non la politica che deve mutare trasformare delegittimare un dato di principio veritiero del santo vangelo la politica non può permettersi non ha la facoltà né storica né antropologica né fattuale né contenutistica di capovolgere o di destrutturare il pensiero fondativo di cristo la politica deve adeguarsi al vangelo soltanto così avremo una sana politica soltanto in questo modo altrimenti chi si presenta ogni volta sotto mentite spoglie alle diverse procedure di elezioni nazionali sovranazionali locali è un menzognero è un bugiardo è un latente è un ignavo è un codardo è un vigliacco che sfrutta evidentemente l'occasione per imporsi per autoimporsi e per imporre la sua deriva mentale la sua deriva valoriale la sua deriva etica ripetiamo ripetendo ripeto soltanto cristo gesù cristo con sua madre con la santa vergine sono la nostra autentica garanzia in tutte le sfaccettature della vita sociale della vita quotidiana dei contesti reali nei quali e sui quali per i quali dobbiamo evidentemente spendere le nostre vite perché dobbiamo vivere appunto in un consorzio sociale dunque la politica se vuole essere vera se vuole essere vera politica segua le orme di gesù cristo segua il vangelo dunque non permettetevi voi che apparentemente avete questo potere temporale del giorno di legiferare norme costituzioni atti appunto deontici che siano contrari al vangelo ripeto siamo contro l'aborto contro l'eutanasia contro la poligamia contro il divorzio contro l'omosessualismo contro le pratiche che vadano contro la vita contro la purezza quindi siamo contro anche la teoria gender siamo contro la massoneria che sono scomunicati ipso facto ecco se uno conosce le varie sentenze della chiesa di nostra madre chiesa siamo contro tutte quelle derive pratiche esperienziali ma ancora prima legate a un mondo di delle idee negativo diabolico che cerchino di contrastare di annichilare il vangelo di nostro di nostro signore gesù cristo noi vogliamo politici autentici dove per autenticità si intende necessariamente l'adeguatezza la nostra adeguatezza al vangelo di nostro signore gesù cristo bene con questo messaggio che mi sembra mi sembrava e mi sembra appunto ho doveroso chiarire esplicitare anche su queste piattaforme vi saluto e vi auguro una santa giornata un santo martedì dunque tutti coloro i quali credono di fare politica ma si mettono contro cristo contro il vangelo non siete politici non sono politici è il tempo la storia ce ne darà ragione ce ne darà atto tutti coloro i quali credono di muoversi nella storia nella società privati della potenza di cristo faranno tutti hanno già fatto tutti una brutta fine e tutta gente che sarà costretta a perire ma non soltanto sotto il profilo materiale perché anche un credente evidentemente dovrà perire in modo necessario ma perirà nel senso che il suo pensiero che è un pensiero malvagio se non è con cristo cesserà nella storia abbiamo visto tutte le grandi ideologie contro cristo che fine che fine abbiano fatto l'illuminismo il comunismo il positivismo l'ateismo sono tutte forme deviate che cercano di mettere in atto appunto un procedimento un processo un processo che vada a colpire che vada a scalfire il santo vangelo di nostro signore gesù cristo abbiamo visto che fine abbiano fatto e dunque su questo precedente su questo stare decisis come dicevano i latini andiamo avanti certi che la verità si auto imporrà bonum est diffusivum sui la verità bonum e il bene evidentemente perché il bene legato alla verità è legato strettamente alla verità si impone e si diffonde da se stesso quindi alla larga da falsi politici ce ne importa nulla destra sinistra sopra sotto centro nord est nord ovest sud est sud ovest ce ne frega niente non sappiamo che farcene perché ormai abbiamo capito che tutta una commistione con termini altri che però appunto indica una medesima realtà quindi la nomenclatura la terminologia è altra è diversa è divergente ma la finalità le finalità i finalismi gli obiettivi sono i medesimi cioè quelli di colpire il cristianesimo quelli di colpire il santo vangelo di gesù cristo non ce la farete non ce la riuscirete perché cristo ha promesso appunto che le tenebre non avrebbero mai prevalso sulla verità non prevale bunt e il messaggio di cristo e quindi un messaggio autentico fondato certo sicuro che non può venir meno dunque destra sinistra centro centro destra centro sinistra dovete necessariamente rifarvi al vangelo di nostro signore gesù cristo altrimenti toglietevi da mezzo toglietevi dalle scatole prima che la santa vergine intervenga in modo prepotente giustamente spazzandovi dalla storia dal tempo dalle categorie dal ricordo dalla memoria un caro saluto una santa giornata sia lodato gesù cristo sempre sia lodato ci vediamo questa sera se dio vuole alle 21 e 15 per la recita del santo rosario sia lodato gesù cristo del santo rosario sia lodato gesù cristo che si dovete restare la città del santo rosario sia lodato dirittà